Oh mio Dio in questo episodio! Facciamo un villager scomparso che è scappato In ogni base ci mettiamo un animale In quella finale ci mettiamo l'Ender Dragon No! 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 Oddio sono diventato! Amici vi avrò messo un riassunto del vecchio episodio Quanti sono belli i riassunti dei vecchi episodi? Ci possono stare Sono carini Sono carini E in questo episodio sarà Quanto è che non esce un video della vanilla? 5-6 giorni? Anche una settimana volendo Abbiamo fatto degli upgrade Ovvero abbiamo trovato delle canne da zucchero E le abbiamo posizionate in questa zona incredibile Tutto un viale di canne da zucchero fuori di testa Per appunto andarci a preparare per questo episodio Perché in questo episodio ci siamo fatti le mappe dell'esploratore Quelle con la bussola Tra l'altro stavo guardando signor Bani Detto anche Albano Mi dica, mi dica Che abbiamo finito il ferro L'avevamo messo a cuocere la bussola Ne abbiamo una Ah no guarda qua 14 ne abbiamo L'episodio di oggi verterà nel fatto di andare a usare le mappe dell'esploratore Per appunto esplorare come dice il nome Io ne ho 5 Il signor Bani ne ha 5 Ci avete suggerito i nomi Peppa Pig Diciamo che è il più classico e il più bello Quindi tu signor maialino Sarei Peppa Pig Detto ciò andiamo a dormire Sperando che non ci caghi in casa Sarebbe alquanto scema Sarebbe alquanto scema Ma va bene Rimarrò lì Peppa Perfetto Quindi io direi di iniziare Guarda che gli zomboidi Guarda che gli zomboidi Guarda che gli zomboidi Guarda come bruciano Muorite signori zomboidi Muorite Bruciatle Bruciatle Ok quindi Uso io la prima mappa Creo io Vadi vadi Vai La credi Vediamo Ok me l'ha separata E si vede tutto Perfetto Oh che bello Allora dove andiamo ad esplorare Indietro Oddio vedo il tuo personaggio No devastante Una parte più vicina Quindi andiamo verso il dietro Sperando di trovare qualcosa Verso il di dietro Ok Che tra l'altro Oh c'è ancora il mini cavallino Mi han detto Che Guardalo qui Quello dell'altra È morta La madre Hanno ucciso l'uomo ragno Esatto No Eh sì Con la carota mi segue Se viene figa delire No mi sa che Serve la sella E poi mica mi avevi detto Che seguiva la madre Eh quindi niente Comunque Come vedo dalla signorina mappa Abbiamo già superato i blocchi Quindi in teoria Se ne uso un'altra Siamo già nella parte nuova Siamo già nella parte nuova Quindi se io in teoria uso Stock Ne uso un'altra Sì fa vedere Se sono vicina Mi facci vedere Spostiamo qua Stuck E stuck Sì è giusto Sì sì è giusto È giusto Ok Quindi ora O andiamo verso Tutto giù Sempre dritto Seguiamo una direzione Dov'è che era L'altro Nostro villaggio Mi sa verso Dove stiamo andando qui Qua c'è un villager scompar Che è scappato Torna casino Torna casino Era uno sgarro viaggiatore Era uno sgarro viaggiatore Comunque Queste mappe Non stanno Come si dice Come si dice Banne non mi viene la parola Non occupano troppi blocchi Non so che Non occupano troppi blocchi Quindi in teoria Cioè vedi Già adesso Siamo già in una nuova zona Ma bra Noi non siamo mai venuti qui Sì nel senso Una nuova zona con le mappe Vedi se io faccio Mappa 1 Presa Mappa 2 Continua Mappa 3 Continua ancora Sì dai continuiamo tutto dritto Poi mi dai le tue Così ci alterniamo Comunque è figata Vedo il tuo personaggino Che è abbastanza inquietante Però vedo il tuo personaggino Sto anche iniziando a piovere Te ce l'hai il cibo C'è la piova Mammo guardi Ok Ci sono anche delle rose Zì O delle bacche Oh ci sono i tuoni Ci sono i tuoni Me lo bacchi Sì non servono più di tanto Ma sta bello Le voglio in casa In casa proprio le bacche Ok Un po' fuori dai Nei bacchi Se si può mettere Le bacche nei vasi Non saprei Non so a casa tua Che tipi di fiori strani hai Ma comunque in casa mia Non voglio le bacche Nei vasi Ehi vabbè Senti i tuoni Senti i tuoni Ma ciao Ma ciao Cioè io ora Una navicella aliena Me la aspetto tranquillamente Oh c'è un lupo No Dove dove Qua 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 c'è un lupo Qua è addomesticabile Il lupo con le ossa Il cane cioè Non picchiarlo Non passarci neanche Se prendiamo le ossa C'è un geng che dopo ci ammazza Esatto Però se prendiamo le ossa Dagli scheletri Poi Possiamo darle al cagnolino E diventa nostro amico E possiamo dargli anche il nome Tra l'altro Quindi Se troviamo degli scheletrots Le uccidiamo A mani bassa Spacchiamo le ossa Ha fatto la battutona E detto ciò Chiudiamo il video Perfetto Allora vediamo Mappa 1 C'è Mappa 2 C'è 3 C'è 4 C'è C'è E niente Quindi prenderei la 5 E la metterei qua Però prima di fare ciò Mi sono bloccato in un almeno Ok Oh guarda un altro villaggio No mi sa che è il nostro abbandonato Mi sa proprio di sì Dobbiamo far visita al cazzo Ok Al gatto Ah è vero il gatto Non l'avevo capito Eh vai Mappa Mappa Perfetto Mi ha mappato il villaggio Ok Quindi queste 5 Ci sono Ora metto via queste Appunto 5 Allora fai così Mi dai le tue mappe E io in cambio ti dico Che sei stato bravo E poi continuiamo a mappare Tra l'altro Dato Dato che io pensavo Ci fossero Più blocchi Nelle mappe Me ne aspettavo di più Torniamo un attimo Alla base Così Facciamo altri compassi Altre robe Se ci riusciamo Ma dovremmo riuscirci Guarda un mini gattino E poi Mappiamo qua Un mini gattino Io direi Che a parte che mi hai tirato Un'arcata incredibile Mentre ero al telefono Guarda chi c'è Guarda chi c'è In testa attaccata Ah 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 Oh il gattino Oh no 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 Ok Ok Ha messo la testa fuori È già troppo Stai qui a difendere la casa Vediamo se c'è altra roba Non sullamiamo la gola Se provi a scappare Ok Non mi dissocio Ehm C'è l'arco Che però Boh non lo prendo Abbiamo dimenticato Quanto è il carbone Sì vai Prendilo il carbone E direi Vedi vai Sgancia la mappa Biacci Ah sai cosa Possiamo fare Varie basi In ogni base Ci mettiamo Un animale Tipo qua c'è il gatto Nella nostra c'è Peppa Pig Il Peppa Pig E poi faremo altra In quella finale Ci mettiamo l'Ender Dragon Ti immagini Ok Detto ciò Usciamo Non far uscire il gattino Usciamolo Me lo corra Me lo corra No 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 Ok Ok Va bene Siamo già all'olato Creiamo la mappa E in teoria E in teoria E il continuo Guarda che ho due mappe in mano Sono un prestigiatore Guarda come prestigio Quindi mappa 5 qua Mappa 6 Me la metto in mano Oh c'è il cosmo C'è il cosmo per le ossa Mi stanno sporando Mi stanno sparando Cosa Andiamo avanti Andiamo avanti Come stai messo a cibo Come me lo sta messo Ahia mi sono fatto male alle dita Sì c'è le carote C'è le carote Perfetto Andiamo avanti Tanto io ti vedo sulla mappa Se sgarri Eh ma aspettami che C'è un creeper in parte Ma sai che se I fulmini colpiscono un creeper Mi diventa un creeper caricato Oggi ho anch'io Oggi ho anch'io Oggi ho anch'io Porca puttana Oggi ho anch'io Morto morto Ma è andato È andato Io stavo per esplodere Ero incastrato negli alberi Esatto Ma aspetta cosa facciamo Andiamo sempre dritti Ah ma no abbiamo sbagliato Dovevamo fare mica un 10 per 10 noi Esatto Eh allora aspetta Non andiamo dritti Andiamo Eh siamo già arrivati a 5 Eh siamo a 6 Perché il nostro villaggio Deve essere al centro Esatto Però siamo a 6 Quindi ne abbiamo fatto una di troppo In realtà Vabbè al massimo facciamo Un mega mappa mondo più grosso Quindi vabbè Facciamo così Iniziamo a fare 12 per 12 Esatto Guarda che Oddio No c'è un cavallo scheletro Ma non c'è un cavallo scheletro No guarda non ci credo Aspetta Oddio sono diventato Oddio Che cos'è corri Cos'è successo Non vuol dire niente Sì uccidiamoli Sì 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 I cavalieri dell'apocalisse Zì Sì hanno Come si chiama Ma il Non lo so ma uccidi Li hanno troppo Uccidi uccidi I cavalieri dell'apocalisse Anch'io uno l'ho picchiato Morto Oddio i cavalieri del fottuto apocalisse I cavalieri dello zodiaco Cioè ma Eh sì esatto Vai ammazzali tutti Ammazzali tutti Ammazzali tutti Ammazzali in testa Morti 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 Ma che casino Ma noi in questa serie Quante cose stiamo trovando Cioè facciamo Facciamo un riassunto Abbiamo trovato il mega portale Quattro villaggi attaccati Sti tizi Fuori di testa Che mi hanno lasciato un botto di ossa Ora mi faccio un botto di bombial C'ho il 27 di bombial Cioè No sto cavallino lascialo Vai andiamo via Andiamo via C'è troppa roba Sì troppo casino Oh c'è una C'è una cosa con Un cazzo che si chiama Va bene Lo apprezzo Lo apprezzo Che sberliche Vabbè Comunque Andiamo verso Dixstria Così poi ce ne torniamo su a casa Tipo ora Siamo già su Sì quindi Farei partire la mappa E creerei la mappa Dopo che è esatto Il continuo Dove andiamo Torniamo su Oh c'è un mega ragno dietro Un mega ragno Sì fa niente Fa niente Lo picchino Lo picchino A sberla in testa Con l'ascia Fuori di testa Ok c'è un altro ragno Ma non guardarlo Se lo guardi Lo accettiamo Lo accettiamo Ah nel senso Con la Ah in quel senso Ok vabbè È morto È morto Ok Volendo abbiamo già fatto Anche un altro Arrivano l'orda di zombie La gang La gang non si infama È partita la guerra La guerra Oh No il piccignacco Eccolo picchialo picchialo È fortissimo Ok Mamma mia che cattivo Non abbiamo tanta vita Eh Bane Beh Mi devi dire qualcosa Cioè Non ci vedo niente Non ho portato le torce Ok niente Scaviamo dritti a caso Salve salve Se lo facci dire Lei è un cratino Ti ho catacombato Mi hai catacombato Esatto Faccio partire l'altra mappa O vuoi mappizzare per di sopra No Mi picchia lo scheletro Dai mappizzo Che cavolo lancia questo Ok ho mappizzato Oh guarda quanti creeper Sono tre creeper che fanno il bagno No fuori di testa Cioè ma noi non dovevamo uscire Perché Che creepano Eh creepano tutti Aia Ok Un altro Ma basta Ma quanti mob ci sono Ma cos'è abbiamo aumentato Questo è l'arco leggendale Quello Quello Incantato Va buono Va buono Oh che bel castello Marcondiro Incantello La cazzo era mega dankata Le mie orecchie Cioè ogni volta che registro con te Le mie orecchie mi fanno ciao Altro che le caprette Dai ti fai Ok ho mappizzato ancora Ora manca solo l'ultima cosa E poi abbiamo fatto tutto Cioè tutto Adesso con tutte le mappe che hai È impossibile che non troviamo la casa Che casa Io glielo dico Ah è vero le coordinate Perfetto Partiamo malissimo Però dai almeno stiamo esplorando Stiamo vedendo un po' la situation Che sembra molto interessante Un altro villaggio Ma basta Aspetta che arriva Aspetta che arriva Venghi venghi Che la vedo molto distante Ma è il nostro È un altro No è un altro Perché noi siamo andati tutti verso destra Mi ha lanciato via Corro Corro scappando Scappi scappi No figlio mi ha preso Ma come stavo Oh non fa Non si faccia uccidere No Bra Dai Dai No Ci sei rimasto secco Dai And now E male qui Eh si Però almeno le mappe le avevo io Aspetta che mappizzo l'ultima Stai a casa che torno Imbecille Comunque Possiamo fare ancora tre mappe Possiamo ancora farne tre Abbiamo solo tre Non è possibile Abbiamo solo tre di coso No no Io Sono riuscito a Cioè Ne posso castare tre Ci vediamo dopo Farò un mega taglio A meno che non muoio Secondo te ci muoio Ma io ho paura Mi hai lasciato da solo Allora Signores Sono tornato a casa Per voi è passato un secondo Per me Quanto è passato Dieci minuti Un quarto d'ora È stato molto triste Abbiamo dormito Il bagno è morto E stiamo ancora piangendo Il suo cadavere Dovremmo farci una tombicina E stavamo guardando Che ci siamo fatti altre mappe Nel mentre Perché io non l'avevo visto prima Magari voi si Avevamo altro ferro Appunto Nelle ceste Quindi lui è riuscito a fare la roba Perfetto Siamo tutti contenti E diciamo Facciamo così Intanto usciamo E lasciando dentro il maialino Venghi venghi Signor Albano Sai che avevamo già fatto Due mappe Le avevi Eh ma sono Eh ma forse erano Non quelle dell'esploratore Te le sputo in bocca Ok Io direi Mettiamo giù le mappe Così almeno vediamo un po' la situazione Poi in caso Dopo le tiriamo su Allora abbiamo scoperto Che gli time frame Si fanno uccidendo Malamente Tra l'altro Le mucche Quindi dato che di pelle Per ora abbiamo solo 3 o 4 Andiamo a slamare Venghi venghi Ah no Beba big Ah che spavento Guarda come Cosa volevi fare Cosa voleva fare Che cretino Dicevo Ci andiamo a slamare Delle mucche Poi per concludere l'episodio Iniziamo a mettere giù le mappe Nel prossimo Oltre magari a mappare Qualcos'altro Non lo so Ci costruiamo Il tempio Appunto per mappare le robe Che in realtà Al posto di uccidere le mucche Dovremmo far la farm Ma la faremo più avanti Ci piace uccidere No ci sono gli lama Gli lama Gli lama Gli lama Gli lama di forne Gli lama di sbronar sprites No tienili lì I lamas Tienili tienili Perché in teoria il commerciante Però non ci serve Vabbè Niente Noi andiamo a slamare le mucche Come è giusto che sia E poi ci facciamo 10 time frame Ce ne servono 7 mucche No Magari ci danno più pelle Comunque andiamo a uccidere le mucche Ha morto le mucche Perfetto Io ho 8 di cuoio E bastano Perché a casa ne avevamo 2 o 3 Mi sembra Io ne ho 4 Ok Quindi ora che abbiamo lo cuoio Andiamo a farci gli time frame Finalmente Servono gli stick Vabbè Il legno ce l'abbiamo E li mettiamo lì giù Abbiamo fatto gli time frame Ion brain Ion brain Ion braise Ok La smette Iero brain E mettiamo il villaggio Allora In teoria si espande Aspetta questo non mi piace Facciamolo più centrale qua Tipo Ah però devo mettere gli time frame Che scemo Che scemo Quindi per ora abbiamo fatto una roba del genere Allora facciamo così Vieni andiamo a dormire Ma perché ogni volta che si fa notte Da noi ci sono i temporali I tuoni Fulmini e 7 Cioè non può essere una notte tranquilla No No Tra l'altro c'ho altre mappe Però direi che per questo episodio Volendo è tutto Ci sono i mostri I mostri Oddio ci sono i mostri Sei tu il mostro Peppa Sei tu Oh dai Comunque carina per ora la mappa No Cioè ci sta come Carina Quindi io direi che Volendo Ora possiamo far Eh signor zombie Non mi cammini sulla mappa Che spavento Che spavento il mio cuore Cosa urli Cosa urli Mi ha fatto esplodere un altro creeper Mi ha fatto esplodere un altro creeper Allora la mappa La lasciamo in terra Sì dai Direi che per questo episodio È tutto Nel prossimo I nostri gentili telespettatori Ci dovranno consigliare Come fare il tempio In che stile Come mettere la mappa Ce l'ho già in mente Ma al momento Non abbiamo tipo di quarzo Sarebbe bello Ma dobbiamo ancora andare nel nether Al momento non siamo in grado Quindi la mappa è carina Sembra tanto un Non lo so Un Scrivetemi voi cosa sembra Un Psyduck Un Psyduck C'è un mini maialino Comunque Io non vorrei dirtelo Non ucciderlo Mentre faccio l'outro Vi ringrazio per il video Appuntamento domani Nel solito Ravvero due e un quarto Guarda come sta arrivando Alla carica il cretino Chiudiamo l'episodio Alla prossima Ciao Maialino sei salvo Maialino sei salvo